E' di tre morti e un ferito il primo bilancio dell'esplosione nel gasdotto Urengoi-Pomari-Ozrod che dalla Russia attraversa l'Ucraina, riferisce la TASS citando i servizi di emergenza. Le vittime erano dipendenti dell'azienda del gas e stavano facendo lavori al gasdotto. La situazione della fornitura di elettricità rimane comunque critica nel paese. L'80% della regione di Kiev è senza corrente. Due giornalisti italiani hanno denunciato di essere stati oggetto di un attacco intenzionale da parte dei russi a Kherson, ma sono riusciti a mettersi in salvo. Un colpo ha danneggiato l'auto, siamo rimasti bloccati sotto tiro prima di riuscire a metterci in salvo. Perso sangue, ma la ferita è lieve, spiega in un video il reporter Claudio Locatelli nella vettura con il collega Niccolò Celesti. Il tiro proveniva dalla sponda oltre il Nipro, lì dove si trova l'esercito russo. Sparare sulla stampa non ha scuse, stiamo bene per fortuna. Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 ha colpito oggi la costa settentrionale della California. Il sisma è stato localizzato ad una profondità di circa 16 chilometri. La scossa delle ore 2.34, le 11.34 in Italia, è stata registrata a 12 chilometri a sud ovest di Fernald, una cittadina nella contea di Humboldt. Per ora non ci sono notizie di feriti o vittime, il terremoto non ha fatto scattare l'allerta tsunami. Il mondo del calcio è in ansia per Gianluca Vialli, il capo delegazione della Nazionale Campione d'Europa e braccio destro del CT Roberto Mancini, è ricoverato a Londra per il peggioramento delle sue condizioni di salute. La madre, Maria Teresa, è partita da Cremona per l'Inghilterra. L'ex calciatore sta lottando da cinque anni contro un tumore al pancreas e ora si trova nella clinica dove aveva già sostenuto due cicli di chemioterapia per il cancro scoperto nel 2017. Proprio pochi giorni fa, l'ex attaccante di Sampdoria, Jumentus e Chelsea, aveva preso una pausa dalla Nazionale per dedicarsi completamente alle cure.